Ad una festa di laurea si impadronisce di un'auto di una degli invitati e sparisce. È accaduto a Collalto Sabino. I carabinieri, al termine di una serrata attività d'indagine sviluppata anche nelle province di Roma e di L'Aquila, hanno denunciato in stato di libertà un incensurato trentenne cittadino cubano residente in provincia di L'Aquila. Il giovane, dopo essersi impossessato delle chiavi di un Audi A4 di proprietà di una delle invitate alla festa, si è dileguato a bordo della vettura facendo perdere ogni traccia di sé. La madre dell'uomo, dopo due giorni, non vedendolo rientrare a casa, ne aveva denunciato la scomparsa e solo ieri i carabinieri, con la collaborazione della donna, sono riusciti a rintracciare il trentenne che ora dovrà rispondere innanzi al magistrato del reato di furto aggravato.